Ieri sera ai Giardini del Frontone c'è stata l'anteprima della sagra musicale Umbra con il concerto Oltre il Tango, un omaggio ad Astor Piazzolla. All'ingresso, come vedete, controllo dei Green Pass, misurazione della temperatura per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Sul palco poi l'orchestra da Camera di Perugia guidata dai fratelli Passarella. Al pianoforte Cristiana Millevolte, stasera ci sarà invece l'inaugurazione ufficiale al Morlacchi con Grigori Sokolov che omaggia Chopin e Rachmaninov. La luce è il tema dell'edizione di quest'anno, di questa rassegna, la numero 76, un'edizione che appunto vuole lanciare un messaggio di speranza e di ripartenza.